L'opera è che ho fatto, a volte possono essere delle edizioni che vengono annotate oppure sono delle riflessioni su un'opera realizzata, non hanno un intento di scrittura ma sono un intento di annotazione per ricordarli e mi servono come, creo magari, delle associazioni di idee che poi mi permettono l'evoluzione dell'opera, di altre opere. Ma è un po' anche, se a volte si legge il libro, è un po' anche come un diario? Non è un diario perché non è fatto quotidianamente, sono piccoli testi, sono dei frammenti, non è un libro fatto con un'intenzione di scrittura, con una struttura, sono dei piccoli frammenti che poi sono stati raccolti. E piano piano per una loro logica che bisogna vedere attraverso l'opera. E Ghanadetta mi ha detto una volta che lui scrive soltanto quando reagisce contro qualcosa, o qualcosa, come una specie di reazione. Esistono questo tipo di testi, testi di contestazione? A volte ho scritto forse qualcosa, però non è un problema, cioè è difficile che reagisca con la scrittura. Ma ci porta un'altra domanda, la domanda del... Grazie. Grazie.